Partiti. Sesta e conclusiva corsa della giornata premio Clemente Pappi, trofeo Agri sulla distanza di metri 1600. Scatta al comando Storia Romana con all'esterno Ollo Bastion, Forguada, Justify Applause, Psita, a chiudere Iacchima ora. Questo l'ordine quando i cavalli si mettono lungo la retta opposta con Storia Romana che conduce nei confronti di Ollo Bastion, Forguada, riavvicina i due di testa, 4 o 5 lunghezze li separano da Justify the Applause, Psita, a chiudere Iacchima ora. Tre quarti della retta opposta a percorsi dove il battistrada inizia la piegata conclusiva nei confronti di Forguada che è in terza posizione Ollo Bastion. Prova il recupero, Justify the Applause. Cavalli che stanno per rimettersi in dirittura. E lo fanno in questo momento con il battistrada Storia Romana che mantiene lo steccato nei confronti di Forguada mentre prova la progressione all'esterno di tutti Iacchima ora. Ma il traguardo si avvicina per Storia Romana, Storia Romana ancora al traguardo. 50 dal palo per Storia Romana che risolve la partita e viene a vincere nei confronti di Iacchima ora. Justify the Applause for Forguada e Ollo Bastion. Grazie a tutti.